La prima gara da titolare, quali le emozioni a scendere a parte? Come ti sei trovato con Castane e Stecklenburg? Sì, molto bene. La prima gara da Corinthians, Stecklenburg è un grande portero. Mi è andato bene. Mi è sicuro che insieme, mi è sicuro che tutti sciogliono. Andiamo bene tutti. Ti aspettavi di giocare al posto di Burdisso e ti ha detto qualcosa? È stata annunciata la formazione degli scoglitori. Burdisso è un grande compagno mio. Burdisso è un grande personale. Grazie. 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 Grazie.